Il rapper vince due volte, era arrivato alla ristonda Sanremo Giovani Punto ultimo e il secondo classificato, terzi i ragazzi di Il Volo Il vincitore, grazie a tutti, non ci sto proprio credendo E Mamoud il vincitore della 69esima edizione del festival di Sanremo Punto secondo classificato ultimo, terzo Il Volo 27 anni, madre italiana e padre egiziano, è arrivato alla Riston dopo aver vinto, insieme a Inar, l'ultima edizione di Sanremo Giovani, lo scorso dicembre Punto lo ha premiato il televoto dopo la classifica provvisoria che lo aveva piazzato nella parte alta insieme ai tre ragazzi del Volo e al super favorito della Vigilia Ultimo Alla fine, la sua soldi ha avuto la meglio.Per Mamoud, pochi minuti dai cronisti in sala stampa prima di scappare al dopo festival Giusto il tempo di dire io sono 100% italiano, mia madre è sarda e mio babbo egiziano ma io sono nato e cresciuto in Italia A chi gli chiedeva come stesse vivendo questo momento alla luce delle polemiche sui migranti che hanno preceduto il festival Grazie a tutti